Il 29 settembre Pescara ospiterà questa manifestazione la notte dei ricercatori. Professor Ruffini, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Ci sono due attività, uno presso l'ICRENET, che celebriamo il primo Carlo Pace Award che viene dato a degli studenti che hanno collaborato con l'ICRENET diffondendo la cultura che abbiamo sviluppato scientificamente nei licei di Pescara. Questo Carlo Pace Award celebra il fatto che Carlo Pace è stato fantastico nel promuovere tante attività nella città di Pescara ma anche l'istituzione dell'ICRENET. Quindi questo award viene dedicato a una bravissima studentessa che adesso è in Inghilterra e ai due professori che hanno mediato la presenza dell'ICRENET nei licei. E faremo una mostra a presentare anche una nuova attività di tre volumi, uno su Fermi all'astrofisica, uno su Fang Ligie e uno su Marcel Grossman. Questi tre volumi saranno pubblicati in inglese, nelle varie lingue, ma anche pubblicati in italiano e saranno annunciati qua la mattina del venerdì. Notte dei ricercatori, iniziativa di un'importanza straordinaria, con un contatto diretto per far conoscere meglio e nel dettaglio il ruolo di persone normali ma nel loro lavoro straordinari rispetto alla ricerca. E questo credo che sia essenziale soprattutto per i giovani, per gli studenti e non solo. Mettiamo in contatto i ricercatori che hanno l'opportunità di presentare i risultati delle loro ricerche e metterli a disposizione del territorio, metterli a disposizione delle famiglie, dei giovani, dei bimbi che sono molto interessati. Io ho partecipato anche alle precedenti giornate dei ricercatori e ho visto un grandissimo interesse anche da parte dei bimbi. Ci sono ricercatori che attivano laboratori, che appunto hanno la possibilità di far capire l'importanza del lavoro che svolgono.